E dopo le abbondanti nevicate di fine anno, la Puglia in queste ore è sferzata da violentissime raffiche di tramontana. Temperatura nuovamente impicchiata, con qualche spruzzata di neve nelle località collinari dell'entroterra, ma soprattutto un fortissimo vento che sta imperversando, soprattutto lungo la costa. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede per la Puglia, per tutta la giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, venti tendenti a forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte con mareggiate lungo le coste. Il Servizio di Protezione Civile seguirà l'evolversi della situazione invitando ad attenersi ad alcune importanti raccomandazioni. Prestare maggiore attenzione alla guida degli autoveicoli e moderare la velocità per evitare sbandamenti. Evitare le zone esposte a vento forte per il possibile distacco di oggetti come impalcature segnaletiche stradali e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni relativamente leggeri come vasi e tegole. Non sostare lungo i viali alberati per possibile rottura di rami, prestare attenzione lungo le zone costiere in presenza di mareggiate, evitare di sostare su moli e pontili.